Siamo pronti per ripartire dopo due anni di fermo e speriamo bene, eventi logicamente ne abbiamo bisogno e speriamo in una buona stagione. È iniziata nei migliori modi, i turisti stanno arrivando quindi io prevedo una stagione ottimale, per il momento grazie a Dio non vedo un calo di turisti. Penso che il turista italiano rimanga qua in Italia, non se ne va all'estero visto la situazione attuale. Si prevede buona perché i ponti sono belli, la gente si muove, c'è tanta gente, durante la settimana un po' meno, però a fine settimana si lavora abbastanza bene. Turisti li vediamo, adesso li vediamo più che altro sempre a fine settimana comunque, penso di vederli da questo mese in poi, siamo ottimisti e speriamo di fare una buona stagione. Abbiamo proprio anche la necessità fisica e mentale di trascorrere delle giornate piacevoli, soprattutto qua nella costa dell'Adriatico che offre dei bei panorami e accoglienza direi buonissima. Da dove venite? Noi veniamo da Reggio Emilia. Viaggerete oltre a Pesaro oppure avete intenzione? Una signora che sembra la mia compagna non lo è, credo che viaggerà con suo marito che sta dalla parte di là. Io sono inglese. Lei è inglese, sì. E come mai avete visitato, avete deciso di visitare? Un nostro carro, una coppia amica nostra si è sposata, sono di Pesaro ed eccoci qui, abbiamo fatto la cerimonia stamattina.